Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale LeonTrip, benvenuti in un nuovo episodio di Tomb Raider 2 Siamo qua per continuare la nostra avventura con la nostra Lara, attenzione il cane Al momento che il cane Può andare giù Qualcun altro? Oh, oh Che cazzo è Ma che cazzo Altri? Ha fatto malissimo Vieni, vieni Aia Bastardo Abil medikit Aspetta che qua è pericolo, va bene, è un casino Adesso Allora qua c'è un interruttore, lo premiamo Qua credo che si vada su Vediamo se si può fare un po' più velocemente la Lara, grazie No, non si può, però se io faccio così, no ci devo riuscire Beh Ok Faccio un altro interruttore Ah, un'altra fottutissima scaletta, va bene Ma ti aggrappi o? No eh Vabbè Allora lì c'è la finestra Allora dobbiamo saltare di là o di... Boh, ah non mi ricordo mica Allora sapete Andiamo Ok Devo fare le pistole perché qua non mi fido mica No Quanto pare è tutto tranquillo Guarda il fatto che io sento gente dietro qua eh Ah vabbè qua siamo... Aspetta un attimo allora che andiamo a vedere che cacchio ci ha lasciato il tipo Una chiave E la chiave a posto L'abbiamo presa Merda E come ci torno io là? Si può? Si può vedere Ma pensavo questa porta qua si aprisse E allora io devo arrivare di là Assolutamente Quindi siamo una, due e tre Eh non so mica se ci arrivo però Andiamo Forse si Pelo Ok Allora qui c'è Un altro interruttore E anche il posto dove usare la chiave penso Vediamo Ah ok Vabbè siete dei bastardi Mi fate tornare indietro però così eh Mettiamo la chiave qua Yes Si apre il porto Qui abbiamo la barchetta La tiriamo fuori sta barchetta Poi ci guardiamo Ok Ah cazzo Aspetta Lara Qui abbiamo un figlio di Eh lo so Eh però qua non ho posto Due cazzo mi muovo Scusi eh Anche lei Ah e mi droppa le pistole automatiche Grande Mi ha droppato le pistole automatiche Eh ma mi sa che devo tornare su però Aspetta un attimo Eh no E lì c'è Qualcosa di cattivo Ma se c'è qualcosa di cattivo Probabilmente ci sarà anche qualcosa di Ok vediamo Di utile da prendere Può essere Vediamo Allora signorina Croft eh Vediamo un po' Niente non si aggrappa Ce l'hai fatta? Ce l'ha fatta Eh un attimo però E non sono mica convinto io Vedi infatti Ok Solo cane Non è solo cane Sicuro È solo cane Si Si apre una porta lassù In cima al mondo totale Va bene La porta in cima al mondo E Devo vedere un Punto Perché lui mi ha aperto Quella porta là Ma io devo vedere un punto Vabbè qui comunque sono più in alto Se là non ci arrivavo Allora è la stessa distanza Però là non ci arrivavo Perché Eravamo un pelo più in basso Qua siamo un pelo più in alto Infatti Ci arriviamo Allora facciamo Ah dietro la porta C'era semplicemente una leva Dove cazzo vai là? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Farei provare a fare Un po' in velocità Grazie Ok E Tiriamo sta leva Ci apre quella porta Che credo che sia quella che ci permetterà di andare via Con la bagnarola Spagnarola Aspetta un attimo Che qua la raggi Devi per forza Fa sta roba Ok E dove La porta Credo che sia quella lì dietro Yes Credo che tutto questo Serve per sbloccarci Il L'affare Per passare qui Penso Che qua salvo Scusate ma è un pezzo Cioè è dall'inizio che non salviamo Quindi quanto abbiamo fatto? 10 minuti? Eh mi sa che è È arrivato il momento Adesso lì segna 7 La prossima volta segnerà 45.000 Perché In realtà l'ho già fatto Sta Sto passaggio Anche perché Se no non Cioè Prendere più corto il video Diciamo Altrimenti non saprei dove andare Però Voi dite Così ti ricordi? No Che non mi ricordo Hai fatto apposta il livello primo Perché così ti ricordi? No Assolutamente no Non mi ricordo una mazza Quello l'ho fatto Perché sì l'ho fatto Ma l'ho fatto tipo Due settimane fa Quindi che cazzo ne so O più o meno dai Qua mi ricordo per esempio Che c'è una leva da tirare Da qualche parte E il topo da ammazzare Sulla balaustra però Il topo dov'è? Sì l'arra diventa Diventa di qua Sì 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 Posto Vedete Qua c'è il topo Ma non credo che fosse qua Il punto dove dovevamo andare Oh sì Vabbè qua c'è la finestra Però la possiamo rompere Vedete per esempio Cazzo Io non mi ricordavo La finestra Ok Non mi ricordavo neanche Che qua ci fosse il tizio dentro Per esempio E man mano che andiamo avanti Con i livelli Mi ricorderò sempre di più Spero eh Qui c'è una leva Che dovrebbe abbassare Cos'è l'acqua? Abbassa l'acqua O tira la In pratica Apri una porta Che credo sia questa Non è vero Cosa cazzo è successo qua? Pardon me E devo fare un salto Merda Qua In acqua Per vedere c'è qualcosa sotto Non mi ricordo minimamente Vedete? Qualcosa c'è Allora Un po' di munizioni per gli uzi Che non abbiamo Però insomma Tanto abbiamo trovato le munizioni Poi si vedrà Poi qui c'è il posto Da dove siamo arrivati O da dove dobbiamo andare No Credo che sia Oh Qua c'è il topastro Giusto? Eccoli qua i topi Da ammazzare Vedi? E infatti io mi ricordavo Una roba del genere Che non erano quelli Della porta Però Cosa ci devo Taccare un altro razzo Dai Taccare un altro razzo Ah qua non c'è niente Questo vedete Ha una forma strana Però Per qualche motivo Non si muove quindi E però è un muro normale Perché ci fa sbattere contro Il che vuol dire Che non si sposta E non fa nulla Allora Qua si va su E qua dentro c'è E che cazzo c'è Ah il draghetto Di pietra Lì come cazzo si chiama La lucertola Ok E possiamo andare giù di qua Anche Ah è qui si ritorna Eh vedi Ok Sta tutto a posto Lì c'era il segreto Va bene Ah siamo ritornati su Ma dobbiamo andare su Dobbiamo andare giù Un secondo Boh Mi butto giù Eravamo andati qua Noi con la bagnarola Sì 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 esatto Eh però ci cammina Qua ci mettiamo 30 anni Lara In questo modo Capisci che Abbiamo un problema Niente robe qua Non credo che ce ne siano più Vabbè che adesso ormai il flare è finito Vabbè sti cazzi Quindi io devo andare di qua adesso Anzi dobbiamo andare di qua E Sulla scala che non siamo andati Probabilmente ci sarà il modo per aprire la porta Dai Ah si è chiusa questa Vedete Ok Prima quella non era chiusa O si Boh Diciamo che noi qua a nuoto ci passiamo Ma non passiamo con Ecco qua la leva E tiriamo la leva E credo che apra le porte Queste porte qua sono quelle sopra o sotto Eh ma io ci devo passare con la barca Capisci Credo che sia una specie di chiusa Quindi noi apriamo questo Eh ma l'acqua è dall'altra parte Ah Ecco perché Quindi lui chiude quella paratia lì Apre questa E abbassa il livello dell'acqua Noi andiamo su con la barca Chiude la porta dietro Apre quella davanti E alza il livello dell'acqua Così noi possiamo andare Via con la barca Se era così Ma mi pare di sì Perché suono di acqua che entra Si sente Vedi qua Ha aperto la porta Sì 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 Esatto E ha abbassato il livello dell'acqua Vedi Quindi noi adesso andiamo via di qua Purtroppo dobbiamo uscire di qua Ecco dagli una cragna Staccato dal muro Va benissimo Poi andiamo di qua E ritiriamo la leva Cazzo La ritiriamo la leva Vedete se uno Si ricordava bene all'inizio Cazzo doveva fare Doveva fare subito Con la barca Cazzo fai Vabbè apri chiudi È un po' come ti pare Si poteva fare subito Si entrava direttamente Con la barca lì E poi il passaggio Si faceva una volta solo E invece Vedete che Ho detto L'hai fatto Per velocità del video Ma ti ricordi No Ovvio Allora qua Però io mi ricordo Che si può fare Una roba del genere Vediamo se ci riusciamo Yes Cazzo C'è Una figa Allora Poi qui credo Che si entri Nella cosa principale Vediamo un po' Credo che ci sono Un po' di fili Di trota Devo spararmi Un medikit E salvare Però Vediamo se riusciamo A coppare questo Eh io lì Non ho modo Per Questo mi spara Pure C'è Cazzo Infatti mi dà Le munizioni Per il pompa Però Io ho perso Un medikit intero Qua Però lui Me lo ridà Eh noi ce lo spariamo Eh ragazzi Cazzi Eh che devo fare Ci voglio morire ancora Quindi Facendo così però Abbiamo perso Un medikit Eh E abbiamo guadagnato Un Un po' di cartucce Del pompa Vabbè Allora io so Da quel che mi ricordo Che bisogna sempre andare Verso la musica Qui a Venezia Giusto La musica Vi guiderà Però adesso qua c'è musica Dappertutto Qua no Vediamo di girare un po' Perché Là c'è un tizio Vabbè se non la copiamo Adesso dobbiamo Copparlo dopo Quindi Ok Abbiamo perso molto Ah no Dai Utile sta cosa Ok Purtroppo qua Bisognerebbe premere questo Ma questo credo che sia L'interruttore Della fine livello Sì Quindi No Quindi noi lo premiamo Però Sti cazzi Grandissima La racca Merda Ah qua 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 Ragazzi C'è Un segreto Giusto Che c'è Il La lucertola Di Giada Però bisogna far così Esatto Bisogna buttarsi giù Intanto che siamo Sul Sul salto qui E prendiamo La lucertolona Eccole qua Delle varie munizioni Può rompere Assolutamente no Ma non con queste Grazie Ah ok Cioè no Non era possibile Se no Voglio dire Scusate Si potevano rompere Ah c'è un achievement Se rompete Tutte le finestre Adesso non so L'ho già sbloccato Comunque Ok qua abbiamo Rotto la barca Adesso la musica È scomparsa Però Noi dovremmo andare Verso un posto Dove ci sia ancora La musica E quello segna Il posto Dove dobbiamo andare E dov'è? Qua? Si Qua la sento Senti Qua la sento La musica Merda Se non ci arrivasse Sentite Qua c'è ancora Quindi È qua Che dobbiamo Mondare È morto? È morto È morto È morto Fermi tutti Ok ora Prima di andare No Maledetta Prima di andare Quassù Direi che possiamo Andare a tutta birra Là verso quelle mine E rilasciare La barca Vediamo se ci arriva Ok dovrebbero esplodere Tutte però Che se non esplodono Tutte Ok Sono esplose tutte E qua c'è l'altra Barchetta Lo lasciamo qua O qua ci dobbiamo Mondare No c'è una chiave Non ci serve niente Adesso Allora 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 il fatto è che La porta finale È a tempo Quindi voi dovete Premere l'interruttore E in tempo Porca trota Andare Attraversare Attraversare la porta Che era lì dove c'erano le mine Però prima non potete farlo Perché c'erano le mine Adesso le mine non ci sono più Usiamo l'altro motoscafo Per fare Il percorso E riuscire ad arrivare Ad attraversare Quella porta Il problema È che Non ce la fate Perché il percorso È troppo lungo Perciò Voi vi Inevitabilmente Arrivate in ritardo C'è la porta fa in tempo A chiudersi E Per riuscire Ad arrivare in tempo Dobbiamo sbloccare Una serie di cancelli Che vi permettono di Tra virgolette Sbloccare una scorciatoia E fare il percorso corretto Per arrivarci Qua ci sono Dei stronzi Da coppare Sicuramente Ma non mi ricordo Dove cazzo Erano Troppa Troppa gente Troppa gente Curati Non si cura È andata È andata Gioco? Gioco? Gioco abbiamo un problema Carica Ok Eccoci Allora Beh sì Dovevamo rifare i salti Però insomma Mi sono rifatto tutto E adesso salvo Attenzione Non sbagliamo Come abbiamo fatto prima Adesso però Risalveremo Per forza Altrimenti qua Ci perdiamo Veramente gli anni Allora Allora Si diceva Vai Sì Vaffanculo Pezzo di stronzo Ma prima non eri salito così velocemente però eh Per cazzo sei Vieni fuori Vieni qua Stardo Eccolo Guarda Guarda come è fiero Con il suo manganello in mano Comunque ti ringrazio per avermi buttato giù così io risparmio un po' di munizioni per la pistola automatica eh Grazie mille Io ti accoppo in tutta tranquillità No no adesso tu vieni qua Non che prima eh Cioè così è facile Ma come cazzo è il cane di merda Lo facciamo da accopparlo? Eh hai visto? Vai Merda Eh un pendikit me lo sparo eh Intanto hanno risparmiato uno finora eh Quindi Eh ok 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 Con questo bisogna usare un po' di maniere forti Eh no perché lì c'è raga Il delirio su quel cazzo di ponte Cioè c'è il festino del Di chi è il compleanno qua? Catoia Ma quello stava sparando direttamente dall'altra parte L'ho visto che sparava verso il muro Non diciamo cagate Qui troviamo Vedi ci droppano La chiavettina che ci serve probabilmente andrà lì Questo cosa mi ha dato? Eh hai visto Il nostro Il medikit Ok abbiamo usato un medikit grande Adesso abbiamo guadagnato quello piccolo Bene Questo sarà Credo un cancello che si aprirà Con qualche Sì si apre Perché Lara non ci va a sbattere Ok Quindi la chiave andrà qua Forza Sempariamo un canguro eh Però Vada Prego prego Qua sicuramente Dei bastardi ci sono Una roba meno tranquilla Invece è molto tranquilla qua Come storia Vada Ok apre un cancello Va bene Eh mi sembrava troppo bello Dai la porca puttana Eh ma qua Lì sento che ci sono i bastardi Cazzo sono Bastardi Oh Cazzo Vai Tu vieni qua A rompermi i coglioni Cioè Scusami Eh dai eh Grazie per le munizioni Ci sono tornati 3.47 Ok ora Non so però Come cazzo si apra Allora Una delle scorciatoie Le abbiamo sbloccate Ma la chiave Ce l'abbiamo? No Non abbiamo un'altra chiave Per aprire Quella porta Allora Fatemi pensare che Che cazzo si ricorda Noi abbiamo aperto Questo Abbiamo sbloccato Questo qua Non c'era mica Nient'altro Vero Si andava giù Su non c'è niente No Ok quindi qua Niente raga Comunque qua È già una Una cosa che potevamo fare Abbiamo Aspetta Quindi dobbiamo andare Verso la musica Giusto? Cioè andiamo Verso la musica Qua la musica non c'è più Andiamo verso la musica Dov'è la musica? Cerchiamola La musica ci indicherà La via a Venezia La sento? Ok È qua È di qua Mi dispiace Ma non mi faccio Beccare Ok Quindi il tizio qui Ci ha indicato Tipo la via Ha aperto la porta Meno male che ce l'ha aperto a lui Perché senza di lui Non saremo mai riusciti Ad andare avanti Nel gioco No Ci pinto che metto a sparare il topo Con la pistola automatica Ok Qui c'è una leva Un altro topo? Ok Qui c'è una leva E ci sblocca Quella porta Ah quella me la ricordo Dov'è Ovviamente Dall'altra parte Della mappa Allora Questa è una Del due Gratti Che dobbiamo sbloccare Per la scorciatoia Là c'è il coso finale Va grande Lara Sei arrivata lunga L'hai sentito Che sei arrivata lunga Ok Vai Bartoli Va bene Non so se Bartoli Sa dove cavolo Si trovi Tipo il pugnale Dixian Però Noi siamo qui Lì c'è la chiave Ok E la porta si chiude Lì dietro di noi Quindi noi facciamo così Adesso salva Ok Allora Il pugnale Dixian Di qua E poi Ma se il pugnale Dixian Eh lo so Capiscono perfettamente Quello che tu stai dicendo Ma il cane Il cane È quello che ci piccherà E noi ci moriremo Qua Eh sì Perché Il cane Andrebbe sparato per primo Perché fa un danno Della madonna Quello col manganello Invece è una pippa Eh Però non possiamo Scegliere noi A chi sparare Sceglie Automaticamente Lei Bene Se noi facciamo così Invece vediamo un po' Perché non mi voglio Stare a curare Questi cretini Malefici Allora Facciamo così Andiamo qua Andiamo indietro così Andiamo qua Niente Vedi Niente Niente Spariamo sempre Prima il tizio E il cane ci ammazza Perfetto Niente Porca puttana No Non Vuole decidere di No Il cane È animalista Che decidiva Aspetta un po' Attenzione Ok Ha coppato il cane Perfetto Ole E questo qua Ve ho detto Che è una pippa Quindi muore Vedi Il problema era L'animalo Non era il tizio Arca draio Ok Adesso Qui abbiamo Una leva E il Medikit Lo utilizziamo Anche uno piccolo Va bene Sento camminare Passi molto Sostenuti Sta in basso Yes Guarda dove sta Ok Non abbiamo scampo Da lì Fusila pompa 8 No Spariamo con queste Vediamo se riusciamo Ah ma Lo miri No ma lui si Noi no ma lui si Lui ci becca come Vedi Ebbè Lara 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 crofter Là Niente Non sale Non va su Non va su Che per cazzo Eh vabbè Buongiorno e buonanotte Signorina e principessa Adesso Ecco qua Senti come frullano Eh L'hai sentite Dai Non mi può sparare da qua Come cazzo fa Sono sotto la piattaforma Bastardo Guarda che stronzo Lara Aggrappati Niente Aggrappati A sta cazzo Di cosa Eh ma Vaffanculo Cioè Dai Capite che Non è fattibile Sta cosa Cioè Non Vabbè Abbiamo mangiato Tutto quello che Abbiamo fatto prima Ma noi scusa Che Cacchio di senso Aveva questa Ah si abbiamo trovato La chiave Ok Chiave che andrà Secondo me E Quasi sicuramente Vediamo un po' Vediamo un po' eh Devo far il giro Devo far il giro Qui andrà la chiave Ops Ma qua ci sarà l'interruttore Per l'altra chiusa Vediamo Ok Pistole sono quelle giuste Vai Chiave di ferro E infatti qua c'è la musica Ve sentite Ci dovrebbe essere Un interruttore Qualcosa Qui dentro Possibile Ah ok Vedi che c'è Ok si E ci apre L'altra chiusa Perfetto Possiamo uscire dal livello Vedete Lei non è facile Uscire dal livello Assolutamente no Però vi faccio vedere Come Si potrebbe fare Al primo tentativo Ora qua Non usate il boost Della barca Quando tornate indietro Perché altrimenti Poi è anche bene Fare un altro salvataggio Qui Perché Si dai Facciamolo Ora dobbiamo andare Dall'altra parte Di quel muretto Lì perché lì c'è la rete Non passiamo Quindi Anche se c'è il cunicolo Dall'altra parte Vabbè Facciamo semplicemente Il giro Altrimenti sareste Sbuccati da qua E sarebbe stato Un po' più corto Però Allora Bisogna andare qua dentro Dove abbiamo Accoppato il tizio Mettere la barca In modo che lei Ci salga su In fretta Se è possibile Ok tipo così Secondo me così può andare Sperando bene Sperando bene Vai Premiamo Si basta Ok Vai sulla barca Lara vai sulla barca Ok Poi andiamo di qua Cazzo Proprio come avevo programmato Qua turbo Boost Perfetto Dammi l'inquadratura giusta Please Ok Poi le chiuse Le chiuse Le chiuse Le chiuse Una Due Giriamo a destra Tutta birra No 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 Tutta birra Tutta birra Grazie Ci riusciamo Si Non proprio Con porte aperte Però diciamo Che ce l'abbiamo fatta Va bene Allora 29 19 Insomma potete fare Un po' di errori Senti raccolti Questi cazzi Per i segreti Dei ben presi Bene La prossima volta Visto che Vabbè il video è durato Un po' Una trentina di minuti 40 minuti Quindi Diciamo che la prossima volta Partiremo di qua E qua siamo Signori Al covo di Bartoli Il covo di Bartoli È un po' Una rottura di palle Ma vedremo di farcela Io vi saluto qui Nel frattempo Ricordate di lasciare Alle commenti Condivisioni qua sotto Ricordate di lasciare Un commento E non preoccupatevi Perché anche se Questo episodio Finisce qui Io sono Leon Trip E noi Ci vediamo Con il prossimo Ciao raga Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.